Un'altra stella si è spenta nel firmamento della Rai, lasciando dietro di sé un vuoto immenso. Prima di immergerci in questa dolorosa vicenda, vi esortiamo a iscrivervi al nostro canale News Mix Up, ed a attivare le notifiche con un semplice clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati del nostro angolo dedicato al gossip. Siamo lieti di rivedervi qui per condividere insieme le ultime notizie e chiacchiere di cronaca. Senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore di questa triste narrazione. Oggi, dobbiamo dire addio a una delle figure più amate della televisione italiana, scomparsa prematuramente all'età di 55 anni. Il carismatico interprete, noto per la sua simpatia e creatività, ha lasciato un vuoto insostituibile nei cuori dei suoi fan, ma anche nel panorama televisivo italiano, non era solo un volto noto, ma anche una persona di straordinaria bontà. Oggi, la comunità di Radio F piange la sua perdita, e il ricordo di questo grande uomo si fonde con la storia della televisione italiana. In particolare, la sua collaborazione con Flavio Insinna ha contribuito a plasmare la storia della RAI. I due, complici affiatati, hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili nei programmi televisivi, come la celebre Corrida di RAI 1. L'empatia e la chimica tra Stefano Rapezzi e Insinna hanno reso il loro duo un'icona dello spettacolo radiotelevisivo italiano.